ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube oggi torno con una succosissima review di due giocatori ovvero timo verner nella sua versione fanta fc sbc sfida e creazione rosa e anche alex scott terzino hero sbc uscito ieri sera le ho già provati entrambi andiamo a vedere come rendono in game e se vale la pena sbloccarli partiamo proprio dal timoniere tipo verner attaccante tedesco tornato in premier league stavolta con la maglia degli spurs del tottenham 1 80 per lui alto normale il work rate 4 stelle skill 5 piede debole piede destro e stile di corsa esplosivo controllato con stile d'intesa consigliato motore e vedremo il più avanti perché un giocatore che ha un costo di circa 500 mila crediti e questo fa sì che si va a piazzare in quella che è una fascia intermedia di giocatori che un po manca perché se noi andiamo database di footbine alla mano vediamo che attaccanti validi su quel prezzo non è che ci sono perché si abbiamo i soliti giocatori già visti il muco che è uscito recentemente nei future stars che però è una sorta di bayhead e anche qui nulla di nuovo abbiamo più che altro delle icone abbiamo dal glish abbiamo butraghenio abbiamo cantona insomma giocatori che abbiamo imparato a conoscere ma che comunque sono versioni uscita inizio gioco per cui un po antiquate quindi diciamo che va a rinfoltire un po una fascia dove grossa alternativa almeno al momento non c'è per quanto riguarda i ruoli fa la tt di partenza la t come ruolo alternativo ma anche la s questo per poter facilitare le vostre ibride e le vostre intese per quanto riguarda le statistiche andiamole ad analizzare per quanto riguarda la velocità abbiamo un ottimo 95 con 97 di aggenerazione e 93 di velocità scatto giocatore che si sente essere rapido soprattutto quando è già in corsa e quindi continuando la falcata difficilmente si fa recuperare dagli avversari non va troppo via in velocità con il doppio passo ma invece un ottimo speed boost old school quello l1 più corsa da fermo praticamente scatta e dà degli strappi abbastanza importanti per lasciarsi alle spalle i diretti marcatori veniamo al tiro potenziale potenziale totale di 88 posizionamento di attacco 92 finalizzazione 89 potenza tiro 90 tiro dalla distanza 84 con tiro al volo 89 devo dirvi la verità è uno dei pochi giocatori con i quali sotto porta non ho quasi sentito difficoltà anzi praticamente tutte le occasioni che mi sono capitate con questo verner sono state finalizzate alla stragrande soprattutto se prendete i timed poi non ve lo sto neanche a dire è un clinical finisher veramente incredibile per non parlare poi ve lo spoilerò di quello che è il suo playstyle plus ovvero del powershot che vi permette di poter avere tutta una serie di alternative nell'andare a finalizzare la vostra azione offensiva che altri giocatori non hanno perché ovviamente avendo il powershot plus fa quella animazione in maniera molto più veloce rendendolo quasi un tiro normale quindi anche lì molto bene per quanto riguarda i passaggi non state lì a farvi spaventare dal 70 di passaggio lungo perché tanto verner essendo prettamente un attaccante deve giocare come appunto rifinitore al massimo per il compagno che si trova di fianco e non è che deve fare questi gran lancioni per cui bene il 91 di passaggio corto veniamo al dribbling perché abbiamo 85 di agilità 82 di equilibrio 91 di reattività con 85 di freddezza benissimo qui la spiegazione del perché l'utilizzo dello stile d'intesa motore perché abbiamo un giocatore che diciamo pecca un po in equilibrio ma è aiutato tantissimo da quel 91 di reattività infatti con la levetta io ho riscontrato che questo verner si muove molto bene tant'è vero che diversi gol li ho fatti proprio semplicemente muovendomi con verner su se stesso all'interno dell'area di rigore disorientando i difensori centrali e andando poi a liberare spazio per la conclusione giocate degne di dal glish di messi toti che ovviamente sono più agili però per farvi capire il tipo di giocata quindi motore per favorire un po questa situazione e per andare a dare anche un leggero boost all'equilibrio bene anche il 93 di resistenza mentre 80 è la forza e 77 all'aggressività playstyle plus abbiamo il pallonetto e il powershot come vi dicevo ma bene anche playstyle base perché abbiamo il passo veloce l'inesauribile il rapido che mi sarebbe piaciuto plus ma va bene il primo controllo e il tecnico quindi la corsa controllata che onestamente ho riscontrato essere comunque una discreta corsa controllata non la fa male continua comunque ad avere una discreta velocità massima quando andiamo ad utilizzare il tasto per poter fare quella corsa lì quindi giudizio generale su questo verner a me è piaciuto tanto gli darei un otto e mezzo perché ripeto si va a piazzare in una fascia di giocatori intermedi che al momento era un po scarna e soprattutto questo può prendere upgrade quindi non dimentichiamo il fatto che potenzialmente potrebbe arrivare addirittura a 93 diventando difatti un tots praticamente per cui super super consigliato a me è piaciuto tantissimo ovviamente da giocare prettamente come attaccante o singolo o in un attacco a due non l'andrei a mettere esterno per via del problema dei passaggi e soprattutto perché sapete che da esterno io preferisco giocatori con 5 skill che vanno soprattutto molto più via in velocità veniamo adesso ad un altro giocatore o meglio una giocatrice terzino destro inglese sto parlando dell'iro o dell'eroina alex scott un metro e sessantate di altezza rendimento alto normale tre skill quattro piede debole piede preferito al destro e stile di accelerazione esplosiva controllata terzino che costa circa 300 mila crediti e già da questa schermata però a mio modestissimo modo di vedere presenta delle lacune innanzitutto l'altezza altezza che per un per un terzino è abbastanza importante perché se la deve vedere di solito con gli esterni ruolo nel quale vengono giocati di solito attaccanti che sono fisici per cui rischierebbe di rimbalzargli contro senza recuperare il pallone un altro problema è quello del work rate perché il work rate di alto normale fa sì che nel momento in cui viene persa palla magari in zona offensiva dove quest'ale scott magari ha meno problemi e fa un po più di fatica a ritornare in maniera automatica in fase difensiva oltre al terzino destro può fare l'ada per quanto riguarda i playstyle vado un attimo diretto alla batteria dorata mentre anche il gioche il l2 quindi questo la aiuta a temporeggiare come playstyle base abbiamo l'aereo il rapido il gioco d'anticipo il passaggio teso e quello incisivo per cui diciamo un buon comparto di playstyle playstyle che poi fanno il pari con quelle che sono però le statistiche perché abbiamo un 90 di velocità che onestamente io ho trovato un po fake nel momento in cui dobbiamo farla speed boostare con i doppi passi perché avendo le gambette un po di type minuto fa fatica così come fa fatica anche un po ad andar via in velocità diciamo che trova molto più campo fertile quando si tratta di dover aggredire zone vuote del campo tiro ovviamente da schippare totale bene i passaggi palla al piede si muove benissimo perché quel body type piccolo la favorisce e in più anche quell 89 di agilità mixato a 93 di reattività e un discreto 84 di equilibrio nonostante l'83 di controllo palla e l'80 di dribbling potrebbero spaventarvi statistiche difensive ottime però purtroppo deficitate da quello che il suo playstyle dal suo body type perché intercetta recupera anche discretamente il pallone però alle volte proprio non ci arriva alle volte anche con i contrasti non riesce a sradicare il pallone perché è piccolina e quindi magari rimbalza cade sugli avversari nonostante abbia comunque un 82 di forza e un 86 di aggressività che non sono male lo stile d'intesa consigliato in questo caso è ancora però il consiglio è quello di non sbloccare questa giocatrice perché se la va a vedere con giocatori del calibro di walker evo di giorente anche lui evo è uscito da poco james è uscito un nuovo rico lewis per cui anche giocatori che sono abbastanza recenti che per me questa scott non la vedono proprio perché con tutto il bene che le posso volere ma ha tutta una serie di problemi strutturali proprio insiti a quello che è la sua fisicità che proprio non la hanno ad aiutare essendo un terzino e sappiamo quanto è importante per un terzino fare bene entrambe le fasi per altri video a tema fc24 non dimenticate di seguirmi e soprattutto nei commenti fatemi sapere come al solito se avete sbloccato questi giocatori se li sbloccherete e nel caso positivo come vi state trovando sono live poi tutti i giorni sulla piattaforma viola per provare giocatori e non solo un salutone una buona domenica al vostro iberoschi e a presto ciao